Brucia il bosco di Ginepri sulla collina di Kiryat Shmona, il caldo e il vento rendono ancora più letale l'effetto dei missili che gli esbolla libanesi continuano a sparare sul nord della Galilea. I resti incandescenti dei razzi intercettati e distrutti in cielo, cadendo, appiccano infatti incendi contro i quali i vigili del fuoco stanno combattendo da quasi due giorni, dalle cittadine di confine nell'alta Galilea fino alle alture del Golan. Missili, droni esplosivi, razzi anticarro armato, sono oltre 5.000 gli attacchi portati dal 7 ottobre su quello che è considerato il secondo fronte della guerra e negli ultimi due giorni, esbolla ha intensificato il fuoco, un modo per ostacolare le trattative sul piano di pace presentato dagli Stati Uniti. Un piano che è ancora tutto in salita, l'Egitto, paese mediatore, ha fatto sapere che Hamas ha accolto positivamente la proposta ma chiede che gli Stati Uniti si impegnino ufficialmente a garantire un cessate il fuoco duraturo. Dall'altra parte, Netanyahu ha ribadito che la priorità di Israele sono gli ostaggi, il rilascio di quelli ancora vivi, la restituzione dei corpi di quelli morti, ma Netanyahu non può permettersi di terminare la guerra lasciando in vita la leadership di Hamas. Per cercare di agevolare l'approvazione del piano, gli Stati Uniti stanno preparando una mozione da presentare al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e mentre la diplomazia lavora le armi continuano a sparare, un attacco aereo israeliano ha ucciso almeno sette palestinesi a Deir al-Balà. Altre tre persone sono state uccise in un raid che ha distrutto un'abitazione a Gaza City.